Musica Capitano, siamo sotto attacco da parte di umani nella sala comandi Che cazzo sta succedendo? Non lo so figlio, l'hanno sparato a meno che non mi sparino loro per prendere Per poter raggiungere il punto e distruggere il sistema missionistico Signore, come cazzo faccio? Se non lo fai, tutti i mani si abbordano di entrambe le nati moriranno E ignora il fatto che sembrava una domanda e muove il culo Ricevito Spalazzando pure che staccava Attirate quel bersaglio Sto avanzando, guardami le spalle La seconda raffica di missili ha appena colpito la scena. Dovremmo considerare una richiesta completa, signore. Non ho alcun controllo del sistema missilistico. Bella, mi senti? Sono Unin. Abbiamo appena subito un pesante contrattacco da parte di esseri umani. Ci sono! Ci sono! Sono nascosta in un magazzino della zona di carico numero tre. O'Neill? Ok, tieni duro. Stiamo venendo a pregna. Gli umani di cui parli sono gli uomini della Weyland-Yutani. Sono dei mercenari. Che significa? Significa che potete mettere da parte le regole d'ingaggio. Stanno cercando di nascondere qualcosa che non dovrebbe essere qui. Sterminateli senza troppi pensieri. Fino al colombaio. Buon contatto. Merda! È bloccata! Bloccata. Non andiamo da quella parca. È un brutto segno. Che vuoi fare? Non è un turismo. Un po' dov'è tra l'essere? Capitano, non riesci a vedere quello che vediamo noi. Chi sono questi qui? Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. 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 La Sephora ci sta attaccando. Cercheremmo di disattivare il sistema missilistico. Che cazzo succede? Il tiro non è abbastanza preciso. Stiamo uccidendo i nostri lì fuori. Già. Un'altra parte. Un'altra parte. Un'altra parte. Un'altra parte. Qui incontra bus Jah Jamma. Un'altra parte. Una parte. Un'altra parte. Un'altra parte. Un'altra parte. Un'altra parte. Oh! Oh! Grazie a tutti. 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 Capitano abbiamo raggiunto il ponte signore. Ce l'abbiamo fatta. Troppo tardi figliolo. Signore che sta dicendo? le ho detto che siamo qui. Capitano, mai dei. Il reattore ha raggiunto il palco critico. Non c'è niente che.. Mi dispiace signora. Noo. A tutte le truppe. Questo è il capitano della Solaco. Preparatevi all'impatto. È stato un onore servire questo corpo al vostro fianco. C'è un po' calopo a tutti. Posso crederci. Gente, l'abbiamo fallito. Ciao!